1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 questa è la mia storia, benissimo ho dei fantasmi sul muro che ridono non lo so ok vedi la musichetta io voglio diventare un fantasma ora il mio obiettivo è diventare un fantasma maschio, si, fin qua ci siamo vabbè, maschio ho i capelli, si ho i capelli che capelli ho? non lo so nemmeno io quali capelli ho? questi? eeeh no ho questi capelli? non saprei sinceramente non lo so però so che sono marroni fin qui ci siamo cosa è successo? che cos'è sta roba? i capelli sono solo questi bene, io direi che forse i più somiglianti sono questi perché questi sono troppo grossi sono troppo lunghi quindi diciamo che ho questi capelli ho i miei occhi direi che questi possono andare bene sono marroni ho una bocca confermo si, dovrei avercela ho addirittura no, la barba non ce l'ho cos'è sta qua? ah, ok uh, cappellino degli Yankees bellissimo me lo metto subito poi vediamo metto una felpa ma si, dai mettiamoci la felpa questa no felpa rossa no mettiamoci vabbè però ci mettiamo la semplice maniera tanto credo che durante il corso del gioco possiamo cambiarci ovviamente i jeans che ho sempre rigorosamente i jeans poi le scarpe rigorosamente verdi allora qui cos'è? personalità genius party animal romantic sociable loaded superstar direi modestamente genius dai allora il nome non so se mettere tedbyte o tommaso dai mettiamo tedbyte tedbyte e il nome del canale the chestplate ovviamente the chestplate benissimo spero di aver scritto tutto bene e di non aver fatto un fail allucinante ok cosa è successo? ok sta caricando bene nel frattempo dietro c'è tipo arrow che non so per quale motivo mi sta sparando il computer tra l'altro la grafica del mio computer voglio farvi notare perché è veramente bella ho un cuoco barbuto in camera una specie di stormtrooper tarocco e un tizio con dei fiori che non so cosa stia facendo c'è anche l'idraulico dietro lui vincerà tutto in realtà lui è il protagonista allora ho cominciato a fare il mio primo video in questa stanza durante questi giorni mi sono divertito a fare video sui giochi e su mio stesso bene quindi ah ok vai to the shelf che è questo affare qua choose game suppongo allora data la vasta scelta direi di scegliere empire planet 2 giusto per come diavi ne faccio eh gameplay che cavolo fa eh non dov'è che è successo allora in questa parte devi configurare la webcam il microfono che userai per registrare i video la tua stazione di lavoro è limitata e hai dei punti rendering che credo servano per potenzialare la roba basato sui componenti basati sui componenti ah ok tipo una media di tutto quello che abbiamo credo eh non so devi avanzare i setting per per aumentare la qualità del video usando i punti rendering rendering ok seleziona ok va bene dobbiamo selezionare il migliore io direi che la la selezione orientale ce la mettiamo monodirectional no che cacchio ne so io si vabbè mettiamo tutto ma chi se ne mettiamo tutto tanto ci abbiamo i soldi ci abbiamo il money money questo meno due ma chi se come low resolution ma che schifo vabbè va bene per forza ok la configurazione è pronta si dai si dai facciamole si che cosa è successo ti ho detto che è pronta la configurazione ok il nome del video allora questo è il mio primo video virgola ed è bello punto è eblo ed è eblo va bene uguale in questo in questo ah ok stiamo registrando il video direi di fare un'espressione felice non so bene come è sta cosa ah ok ah ok ho capito devo metter ah no 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 non ho capito niente non sto leggendo minimamente quello che dice lui aspetta calmati smetti di giocare allora in questa fase tu devi scegliere cose differenze per le carte capitano skill point ok ho capito benissimo dobbiamo scegliere praticamente la carta che ha questo simbolo eh bene abbiamo fatto già il primo fail questo è l'editing credo crea il tuo video con drag in clip non so cosa siano le clip saranno eh per editare le tracce e prova a farlo meglio che puoi puoi aggiungere anche gli effetti va bene e come cavolo faccio mettiamo questo direi e però non mi combacia la cosa eh no come faccio se non va bene allora perché fa cagare ehm non so ah ok si si tu ti ho capito probabilmente se io aggiungo questa cosa ad esempio qua mi aumentano le no non scherzavo non è vero vabbè io metto tutto che tanto i soldi ce l'ho credo che li guadagni no non è vero scherzavo lasciamo stare mettiamo semplicemente un titolo e non so se il video va bene ma chissene vediamo interesse 46% contenuti 7 attenzione video qualità 1 1 signori video qualità 1 questi sono i punti del tuo video e l'esperienza che hai guadagnato per le skill guarda i risultati devi decidere cosa cosa pubblicare o non pubblicare ma questo è il tuo primo video quindi devi pubblicarlo per forza perché se non si capito no pubblichiamo il video vediamo un po' ma perché ho gli occhiali scusa eh perché ho gli occhiali e la giacca vabbè insomma e non ho jeans tra l'altro allora le scarpe slacciate ovviamente i still get servirà un po' di tempo per caricare il video ma si va ma ti dirò che puoi guardare le news insomma gli iscritti i soldi guadagnati è molto eccitante vedrai anche i commenti eccetera eccetera il mio inglese ragazzi è perfetto ora avevo un test ogni mese come io ce l'ho ogni settimana considerate voi e e avevo studiato no avevo dovevo studiare che in provincia sarebbe avevo da studiare proprio preciso come l'inglese che è successo attenzione è stato caricato il mio primo video e ha una visualizzazione benissimo se lo avessi passato avrei ricevuto un premio ma l'ho fallito ovviamente rigorosamente fallito e mia madre non sarebbe stata diciamo fiera di me sicuramente siamo già a due centesimi guadagnati attenzione per andare a scuola dovevo solamente andare fuori dalla porta della camera ma perché sta cosa che senso c'ha ok sono andata a scuola e si è fatta sera nel frattempo ok credo che dobbiamo usa il pc ah dobbiamo comprare delle cose nuove non so per fare cosa credo per fare video io non so cosa diamine devo vendere devo comprare però gli direi che compro un altro gioco da amazon.on ah no amazon.on perché la fantasy questo mi piace lo adoro tanto che sono tutti uguali no si va bene quindi mystic 5 mi ispira molto e per ora solo questo andiamo al carrello e compriamo però avevo anche una famiglia è arrivato il pacco nel frattempo a colpo mia mamma si incazza poverina devi studiare di più no devi studiare almeno no what sai cosa puoi fare con i money che guadagni puoi comprare cliccando sulla porta no puoi lavorare cliccando sulla porta che cacchio vogliamo questo qui intanto il pacco no che ci vuole fare open mi è arrivato mystic 5 mi è arrivato mystic 5 zitti tutti allora io direi che adesso non so cosa good trade non so cosa sia però credo che devo andare a lavorare da quello che mi ha detto mia mamma quindi andiamo qua work io direi che andiamo a fare un nuovo video su mystic cosola dove era mystic questo qua bello mystic 5 la fine delle stagioni non so cosa voglio dire ok si sempre quello per forza il nome del video sarà stanno per finire le stagioni così attenzione giusto attenzioe meglio allora innanzitutto siamo abbiamo ancora 5 iscritti nient'altro vabbè registriamo vediamo un po' allora questo vuole lo swap quindi commento che non c'entra un cavolo benissimo viva il commento che non c'entra un cavolo poi il commento non divertente no aspettate mi mancano le lampadine come diamo le guadagno le lampadine bene quindi questo video fa cagare in pratica allora vediamo gli mettiamo il titolo speriamo e basta anzi gli mettiamogli anche green color che fa figo ok vediamo intanto contenuto 14 qualità 4 meglio che 1 ok non ho ancora capito come si guadagnano le lucette però ah ok dormendo e mangiando sarebbe tipo l'energia ah capito bene va bene ci sta ci sta quindi io direi di dormire siamo già 18 iscritti attenzione attenzione 20 iscritti ragazzi 20 iscritti è una tristezza questa sono più iscritti nella realtà uffa ok stanno per finire le stagioni intanto ha 106 visualizzazioni e ci ha procurato ben 29 iscritti e 22 centesimi attenzione mangiamo un po' e poi facciamo un video no un altro video su sempre questo qua mystic anseson che ci ha ci ha fatto ci ha fatto 108 views meglio di niente perci porco porco allora qui non abbiamo sbloccato niente giusto abbiamo ancora tutte le cose basi quindi continuiamo allora salvando salvando le stagioni non so punto fine così creiamo il video tanto siamo energetici possiamo fare quello che ci pare e allora vuole mettiamo funny comment o un topic comment io direi che prendiamo funny comment che ci da due script e un acting poi mettiamo qui off topic comment visto che vuole off topic costa 4 ma porca miseria ma dai allora ci mettiamo per forza come cacchio si chiama happy expression visto che è l'unico che possiamo fare problema è che poi non gli piace come lo ditiamo rompa ancora le scatole quel tizio e chissene però benissimo oh intanto sta alzando la qualità sta alzando quindi tutti i new record tutti i new level allora io direi che pubblichiamo il video cioè cioè fega cioè ora andiamo a dormire slippiamo un po' oh che cacchio vuole mamma non rompere devi studiare di più questa settimana la prossima settimana sarà meglio spero che la prossima settimana sarà meglio ok allora giusto per dare un pochino di come cacchio si dice di giustamente devo anche studiare non studio mai credo che andrò veramente male a scuola perché ah no per quale motivo c'è un commento negativo allora che sorpresa che sorpresa non mi aspettavo un mystic 5 un video su mystic 5 che l'avevo fatto prima questo chi ha editato questo video ah 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 è veramente una merda yeah grazie c'è io bene anch'io benissimo io nel frattempo mi gratulare a ortiche nella realtà eh prendo l'esperienza direi che congratulazioni sei arrivata al livello 2 quando arriverai a un nuovo livello potrai sbloccare nuove luci vulps non so cosa siano skill videoclip ok quindi roba meglio più roba dal dallo store per il computer eccetera eccetera qui infatti è una nuova ah e poi e mi si aumentano anche le lucette non ho capito cosa ho sbloccato prima però va bene allora andiamo su pc world così ci miglioriamo un po' il computer direi che prendiamo un mouse non ci facciamo niente la web questa web è bella molto però ci sono due stelle che schifo cioè ci da 4 punti in più però ci compriamo la webcam o le cuffie perché le nostre cuffie fanno abbastanza cagare io direi ricomprarci una webcam dai poi magari usiamo e anche le cuffie già che abbiamo tanto abbiamo i money 62 dollari ma chi se ne compriamo tutto siamo ricchi ricchi stai perdendo iscritti come stai perdendo iscritti monatti faccio il video non vi preoccupate allora choose game choose game o facciamo un nuovo game facciamo un nuovo game dai tanto oppure rifacciamo empire planet dai che era tanto che non lo facciamo empire planet scriviamo empire planet il ritorno allora innanzitutto la webcam mettiamo quella nuova quella nuova eccola sì ok eccola nuova che ci dà due punti in più infatti la stazione c'ha 14 ok qui mettiamo empire planet il ritorno del figlio non so come si scrive anzi figlio prodigo visto che non so come si scrive ora noi li stiamo visto che abbiamo 10 lampadine e teoricamente i nostri scritti dovrebbero essere contenti ora io mi chiedo ma per quale motivo noi abbiamo praticamente lo stesso numero di views della realtà però non abbiamo lo stesso numero di lo stesso numero di scritti non è una cosa molto bella questa va bene qui mettiamo il commento che non c'entra un cavolo benissimo e abbiamo finito di registrare bene finalmente possiamo farlo per bene uh che bello benissimo 1 e 2 maronna che grafica il mio computer ragazzi allora mettiamo il titolo gli mettiamo anche un grade color e andiamo a editarlo vediamo interesse contenuti 52 9 vabbè tutti i nuovi record allora cacchi che cosa lo pubblico lo pubblico lo pubblico lo pubblico vai pubblichiamolo ok ok ora la mamma si arrabbia che è successo arriva nuove carte la intro abbiamo sbloccato la intro bene abbiamo sbloccato la intro bene bene molto bene e basta solo la intro allora ragazzi per questo video è tutto come vedete la nostra faccia bellissima siamo molto contenti empire planet ha avuto due dislike ma porca miseria per quale motivo perché se vuoi saperlo non dovresti essere guardatelo gli hater chi ha editato questo video fa veramente cagare gli hater schifosi guardate sono triste adesso vabbè comunque per questo video è tutto ci vediamo alla prossima lasciate like commentate iscrivetevi e ciao shalatralla